Quindi noi abbiamo chiesto semplicemente di riportare l'indenità in quelli che sono i valori di base. Mi spiace che non ci sia qui il nostro capogruppo Raunia, il quale ha detto, che così rimane anche a verbale, sono io il suo portavoce in questo momento, che qualora un domani lui dovesse vincere o libera dovesse vincere le elezioni, una delle primissime delibere di consiglio comunale sarà proprio quella di riportare i valori dell'indenità a quella famosa quota 100 che oggi è a 200. Fare gay con l'atto B degli altri per essere elegante, no? Credo che sia troppo facile. Questa giunta sta insieme solo per lo stipendio, uno stipendio che è già doppio rispetto al normale. Tutto ciò, devo dire, è molto triste e finisce per dare la cifra, lo spessore di questa giunta.